musica sto arrivando eh si si vai vada vada circolare oddio sanis strani suoni aspetta aspettami io sto dove stavo prima no è sbagliato strada eh torna qua su no torna dove sto aiuto che è eh lo scherzo niente di niente di oh cazzo il boss ma il boss arriva quando scusa il boss del gioco del gioco di che? ah v di minecraft oh cioè allora c'è sta l'end dragon no? mh dragon finale però poi c'è stava prima un boss eh tipo tutti scheletri tutti i teschi addosso non mi ricordo voilà e hanno fatto non mi spingne che se cascama entra la asfada e tutto guarda che caverna c'è fermate ma guarda 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 che roba questo ma sta bene l'acqua poi lì in fondo quant'è lungo è infinita qua che fate ferro coro guardate che coraggioso oh ragno where youhoo experience point che cazzo se ho detto non lo so fa figo basta esatto torce eh deve un attimo scende che ho buttato il il coso giù e non riesco ok che ci potrebbe stavare che creeper pure stocco c'è un strato portaci vostri di vostra mamma testo fa la luce madre visto visto salgo su ma quando i miei strelli è pieno eh vabbè si durante le caverne ci stava del loro ma tu so pietra rossa pietra bordeaux pietra colore smeraldo pietra pietra colore aia pezzo di merda ti ammazzo il piccone che tanto che ci sta la lava altro che mamma mia lo sai che col piccone così mi sa che poi spacca duemila blocchi tipo il ferro che ci sta oh qua c'è lava attenzione si si ma va come lava ma lo torniamo aspetta perchè c'era dell'oro ah si si però purtroppo mi son dimenticato da ecco lì sopra quanto scherzo aia aia ma sei scemo aia ma sei scemo aia ma sei scemo hai sto il colpo di vato eh hai sto andò parla camatra in un cazzo ho trovato bene come si chiamava il pugile baffo baffo lui è baffo baffo tu sei un buon a nulla io sono pugile mamma mia ti ricordi papà mi è scoppiato un crimine in faccia e mi ha tolto solo un cuore e mezzo fai meglio solo fare un po' di luce eh che mi sono finito le torce aspetta eh un altro pezzo di caverna ah no sempre quello sono girato intorno lol ecco le altre dove sta where are where are ferro prendilo tu no ma io sto illuminamo cioè me butto giù e moro dopo oh no questa caverna non finisce più oh 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 stavo per cadere nella leva com'è che se zoomava? oh control e te ne ho premuto control e? control e? control e basta e basta uno scheletro che è rimasto appiccato là lassù madonna quando cazzo è alta sta caverna se io provo a risalire questa cascata enorme dici che mi ammazzo quale? perchè ti ammazzi? vedi sta cascata eh questa io non so ne manco lo stai tu cazzo sei tu oh orto no mi stanno ammitraglia con le frecce qua aiutaaaa vorrei sapere dove sei io ecco te la aaaaaaaaa ci penso io cci cci tu 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 guarda che forte il pipistrello che sta a dormire ahahah ma se stavano a tirare i frecce avrà di loro ahi sto che figata ahahah dai ce n'è proprio uno sopra te di scheletro ahahah vai vai aspetta eh ahahah 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 eccolo fallo casca do sta ahahah ma sei andata via stardo se mi dici lo sto faccio casca sta questo blocco qua questo blocco qua vai vai ecco aspetta faccio un bel coso ah che spendo la luce io io ahahah ahahah questo mi tira i scheletri addosso non lo so eh io ho 57 torch ma tu ancora si sale vieni vieni eh hai visto altro oro ma quanto cazzo è grossa il pugno ahahah io spero che sta registrando perchè una cosa è così in minecraft non viste poche ho visto e pochissimo ah là un'altra caverna ma si si ma che cazzo ma un po' continuiamo per 10 o 15 km allora saliamo saliamo di qua qua allora where are you sto di qua ecco di qui sopra ecco di qui sopra allora facciamo un po' di luce dissi luce ma come cavolo facciamo arriva fino a su ma c'è del ferro poi non vedo niente qua allora fatti il conto che ho 26 di ferro e 13 di oro mmm ah come l'ava ottimo direi per me è un sì rudy per me purtroppo è no maria per me sì te pareva gerry gerry ottima prestazione se vieni a un milionario ti regalo un milionario si un turista per sempre pure carbon vuoi diventare un milionario si pure turista per sempre tutte e due insieme possibilmente ma cazzo creeper allora allora se ti trovo se ti trovo ti ti trovo ti trovo eh come fai a trovarmi sei andato a nascondino aspetta un po' why so serious allora stavo a scollare con un cucchiaino un giorno no? mhm me lo portavo il budino no? ah mi avvicina l'amico mio pio il cucchiaino perchè sei così triste metto il cucchiaino in bocca? faccio un bel sorriso a questo volto ah l'amico mio ha urlato il cucchiaino in bocca tutto sbavato aiuto aiuto qua c'è del legno eh non so a chi ce l'ha messo eh so i villager quelli antichi tipo i monaci buddisti allora se mi spieghi dove sei sono qua sopra sopra? ah ah si ecco di eh t'ho trovato eh qua c'è la legna qua sto piano qua siamo vicino a qualche miniera forse si maria però c'è da dirti una cosa dimmi rudy è un pelato nooo rudy si è stato adottato lo immaginavo grazie papà ah sono orgoglioso di te ah so più a fuoco ah ah c'è una miniera attenzio ma aspetta però perchè qua entrò la miniera c'è già una torcia eh so ci stanno ci stanno no è possibile sì sì ci stanno e chi ce le mette? eh tu te tu i villager perchè in casa i villager è vero non ci stanno i torci ma secondo me qua oddio due gripe due gripe come si sente certe botte tipo funghi vado all'esplorazione allora aiuto ma secondo te l'italia potrebbe fa la fine dalla russia che i meteoriti eh sì sì oh oh suoni inconsapevoli ma io sento quei maledetti rumori dei ragni quelle zampine maledette che tic 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 oh una cassa ho trovato una cassa ho trovato una cassa ragazzi è vuota mi sape? eh sì eh l'ho presa io prima ma vedetto come ti sei permesso mai vabbè no allora ho trovato uno spawn di ragni ehm mutacci tutto ma è tutto quindi stai qua ehm se tolgo l'acqua mi fanno un favore all'ortente basta fare così bastardi senza gloria ragni schifosi stati perché mi picco ci stanno tipo 100 ragni dai attaccami tanto c'è stata rediglia non me fa niente ce ne stanno troppi allora se tu per dire metti le torce quelli non spawn uno più però tutte queste ragnadele che sembra che sta dentro il naso di un gigante e se starnutisce dirà fuori non so quanto un muco ma che c'è qua sopra qua sopra dove stai ammazza qualche qualche no per adesso no perché ho sentito qua chiudiamo se no la lava qua l'acqua non c'è stalla ho visto solo acqua per adesso vai spider man scelgo te come stai ammazzato stai ammazzato qualche grande qualche ragno stai ammazzato per adesso no per adesso no un altro spawn e no e ora basta maria per te ormai l'italia's god's talents ma san 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 tutto con la z da metto suoni molesti e odori molesti quello sempre quello ogni giorno della mia vita ah ragni ah qua è finita un'altra cesta si pane pane azimo fa conto che so pieno dovremmo tornare su eh dici è ora è giunta è arrivato il mio momento posso esibirmi in un ballo classico di danza moderna come no maria attacca la musica un altro spawn no fermi eh no qua c'è sta ma cazzo questa si ricollega a quell'altra caverna cioè qua caverne su caverne non so qua c'è uno spawn ah si quello che avevo chiuso si 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 tornano i conti si si adesso si ok dopo ho distrutto un po' di robe sono salito a livello 8 torniamo su qua c'è dell'acqua eh se mi butto sull'acqua mi faccio male dipende da quant'è alta se è alta un blocco sì allora no allora io io scavo in superficie bene maria allora non vorrei perdermi tu lo sei cosa che faccio di solito c'ho po' progettivo tra poco come capita la laura che scava in su una cosa pericolosissima ah eccola scherzo t'aspetto un superficie eh eh ma qua c'è del ferro ancora da prendere c'è io già sono salito in superficie ho scavato ho scavato 20 blocchi già sono in superficie ma da quella caverna gigante si e non so neanche dove a casa perchè sto attivo spawnato in mezzo a neve non si sa dove ma è buio? no aggiorno fortunatamente perchè sarà buio eh allora fammi prendere pure quest'altro ferro non era tutta collegata qua la situazione qua non ho fatto luce anche di strellino oh creeper eh polvere da sparo e vai allora che ti ducchi non so più dove sono uscito Zè ahhh mi si sta bloccato tutto non so dove c'è io veramente non so da dove sono uscito Zè e mo? ah no c'è stata la ferrovia oh ho salvato la ferrovia ho salvato la ferrovia si vedo casa tua madonna stavo tipo ho 400 blocchi da casa ah e dai e dai ma la vedo dura eh per me perchè? perchè c'è ci sono un sacco di caverne buio guarda ti conviene di salire e posare la roba ok 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 Grazie a tutti.